Grazie a tutti 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 Questa è la parte più pericolosa La secolina cinese ha tenuto Allora, tu guarda davanti Qualsiasi cosa succeda tu guarda davanti Sentiti come... come quando sei sul gabinetto Anzi guarda poi così Allora così senti poi gente che urla Che mi dice non farlo Fai finta di niente Fabrizio... bravo Qua un pubblico amico Amico di Fabrizio intendo? Non farlo! Non c'è mica tanti amici Ma siete qui? Ah, sarà per quello Qua un pubblico amico Amico mio Che siamo a 10 E siamo a 10 Inizieremo a fare spontaneamente Oh... Oh... Vai e stai Vai! Oh... Oh... No, no, la prima volta lo sbaglio sempre Così sembra veramente difficile Un piano Un piano Un piano E lo provo Sono un professionista Come al circo Alla terza Abbiamo ancora due tentativi Per questo lavoro in strada Oh... 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 Oh...